Benvenuti in un nuovo video da come potete vedere e da come avete posito a leggere dal titolo Oggi faremo una 24 ore a mangio solo gelati Raga, ve li illustro un attimo prima i gelati che faranno parte della nostra guardazione E poi parliamo, perché raga, almeno vado a posare uno dei gelati Dopo vado a riprenderlo per mangiarmelo Allora, raga, confetteria Raffaello della Ferrero Le ho prese tutte e due anche perché uno per scambio al cioccolato fondente già l'avevo assaggiato E devo dire molto buono Quindi ho voluto prendere questi qua Che sarebbe Raffaello Ferrero con un cocco, cioccolato bianco, latte Ma raga, chi è che non lo conosce e chi è che non l'ha provato sono io E poi Ferrero Rocher Classic Quindi con nocciole, cioccolato Eccolo qua raga E quindi stamattina loro faranno parte della nostra colazione All'interno ce ne sono quattro, costicchiano un po' Ma lo sappiamo che la qualità si paga È arrivata proprio in questo momento mia sorella Quindi facciamo fare lavoro sporco a lei Allora Io iniziamo prima da questo Io direi di iniziare da questo al cocco Allora ovviamente raga è una 24 ore da non prendere esempio Ma in generale come tutti i video che vedete su YouTube Ma proprio tutti Non bisogna mai prendere esempio da niente Questa è una challenge da 24 ore Al pre al posto ci penso io Quindi voi dovete solo godervi questo video E' uscito un po' tardi E' uscito a settembre rispetto a due anni fa Che uscì luglio-agosto Ma principalmente raga Perché cambiando location Qui vi dissi già che si muore veramente raga In estate sembra una camera gas E quindi raga Per questo motivo Però alla fine ci sono ancora Sui mercato E perché no L'ho voluto fare ecco Principalmente perché avevo io il desiderio di farlo dopo tre anni No ma li dico raga Sì lo li dico raga Eccolo Raga comunque lo metti a fuoco Eccolo qua io volevo fare il video Ma sicuramente lo conoscete meglio di me Assaggiamo Vi sento il cocco da qua Mmm E' buonissimo Ecco così E' tantissimo Raga che buona Torso dal congelatore Buona Solo perché capite che Non preferisco la versione rotonda Nel senso che preferisco Come è strutturato il magnum Questo raga Basta che date un morso Si rompe tutta la parte Anche col fuo dentro Raga mi sono intossicata l'altra sera Come se fosse meno compatto ecco Non è l'altro che abituato a fare colazione con il gelato Di sentire Il gusto all'interno Che suppongo che sia latte Proprio più deciso No Forse all'interno il latte è cocco Perché sento il cocco Anche all'interno Allora L'esterno buonissimo Forse l'avrei fatto Leggermente più spesso Però è molto buono All'interno anche Oltre al latte C'è anche il cocco Nell'impasto Perché Si sente tantissimo Buonissimo Però non è buonissimissimissimissimissimo Ecco Forse mi aspettavo Qualcosa in più Però è buono Questo si Guarda me Bellino Tu sai vero che Tu sai vero che Fratello maggiore Tipo questo È molto più spesso Mi senti proprio là La diversità Del rivestimento Due anni fa Fu un successo quel video Vi piacque tantissimo Ero proprio agli inizi Del canale Ragazzi Erano 2500 Marche Diversi Ero proprio Diversa Invece Questo ho cercato Di dividerlo In Marchi Quindi Adesso Ferrero Dopodoro 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 Domani mattino L'ordine sono stata proprio brava 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 Alla prossima Ciao 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 un po alle somme allora entrambi buonissimi non so scegliere il mio preferito sta nel mezzo dalla parte forse per il sapore particolare raffaello per la consistenza anche esteticamente esterna roche sono molto molto in dubbio e molto indecisa molto buoni entrambi quindi raga raffaello voto 9 e roche 9 e mezzo ecco qua diamo i voti ecco perché una classifica non la riesco a fare perché sanno entrambi sullo stesso livello e niente ragazzi vediamo direttamente dopo con il pranzo eccoci qua con il pranzo mamma mia raga è la prima volta che li provo non li ho mai provati è uscito se ne sbaglio anche il purgatorio però non l'ho trovato penso di sì ragazzi sta giusto comunque magnum paradiso vabbè che dire la confezione è micidiale cioè raga è bellissima la confezione li ho trovati entrambi da extra cioccolato bianco dentro cioccolato ruby e all'interno pistacchio ho visto tantissimi pareri discordanti ecco molti gne 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 però vediamo e allora inferno fondente salato e lampone raga wow 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 mi prendo quello che mi devo prendere iniziamo dal paradiso ci porterà inizio eccolo qua si presenta completamente bianco con queste strisce vediamo è troppo congelato ragazzi sente tantissimo il cioccolato ruby che vale tantissimo sul cioccolato bianco non sarà il pistacchio più buono dell'universo ma raga già che non si sente la mandorla e che si sente il retro gusto di pistacchio già è una grande cosa devo dire che hanno sposato benissimo con il cioccolato ruby cioccolato bianco ragazzi buonissimo cioè veramente buono e poi vediamo tante tv le novità ciao 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 l'inferno Oddio ragazzi sente il sale no vabbè Assaggiamo è una cosa stranissima No, ragazzi lo giuro fa strano Mamma mia ragazzi che tenebroso, sensazione strana, un dente vabbè assai, mamma mia Il lampone all'interno c'è, si sente tantissimo il lampone Ovviamente ha vinto c'è per la sua particolarità però va bene raga Cioè fondente che forte aveva quella sensazione un po' sana salato Comunque hanno giocato benissimo con i colori e hanno giocato benissimo ovviamente con il lampone non è per nulla timico Ma che cos'è? Ma appena poggi la lingua qui è salatissimo Oddio l'ho fatto Rosa E' una bomba Eh? Con tra le due? Senti ascolta poi Non ti aspetta No, guarda veramente tra i due Il lampone si sente tantissimo l'interno di questo spaziale malissena prima metti la lingua salato c'è una cosa veramente super particolare paradiso ovviamente il più dolce più accattivate però sono buoni tipo questo dopo un po fuori sia praticamente mangiato l'inverno di fa salata e dolce però è buono assolutamente allora che dire che non ci siano parole cioè veramente sono entrambi super consigliati secondo me vale la pena provarli e vero costicchiano mara le novità la particolarità si paga sempre e quindi niente noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con una merenda non fresca freschissima a dopo eccoci qua è arrivata anche l'ora della merenda e raga è stata novità questi sono i ghiaccioli ovviamente ho preso sia pesca che limone vero infuso di foglie di tè estateo con 10 per cento di succo di pesca di origine italiana ferrero quindi prendiamo pesca ultimamente mi sto convertendo un po' a pesca ogni volta che vado a barra io te la pesca non so perché ragazzi limone da pesca assaggiamoci ragazzi le confezioni già so che voi già le avete anche provate altro che il ghiacciolo al limone oddio che buono la cosa è che pesca limone limone tanto che buono raga proprio limone limone la vita orale la vita E' un po' come si scomparisse, perchè ti tocco il succo, ti rimane solo un ghiaccio. E' un po' bello, lo sai? Ok, raga, proviamo pesca. E' molto più intenso pesca, molto più intenso pesca. E' un po' bello. E' un po' bello. Comunque raga, confermo, il ghiacciolo è stato a pesca e molto più persistente, nel senso che il sapore c'è fino alla fine. Invece questa tè a limone parte a bomba, però alla fine è come se si perdesse, ecco, scomparisse un po' quel retro gusto di limone o anche perché forse diciamo che come gusto è un po' più delicato rispetto forse a pesca. Però ecco, pesca si sente fino alla fine, sempre. Quello che non dovrebbe mai succedere. Ok, io con il cervello ghiacciato e le mani tutte appiccicose, dichiaro anche la merenda conclusa. Noi ci vediamo direttamente dopo con la cena, mi si sta ghiacciando tutto, quindi a dopo. Eccoci qua con la precena ragazzi, sarà un susseguirsi di Nestle e Maxi Bond, ho preso quasi tutti i gusti che sono usciti. Allora, questa è una limited edition, l'ho presa da, no, da extra. Limited edition waffle blonde con caramel. Raga, io penso, pongo che siano i piccoli, io penso di sì, sono i piccolini, sono i piccolini. Quindi con caramello. Raga, ho bisogno di mangiarmi qualcosa di sostanza. Sì, sono i piccoli! Ho fatto bene a prendere questi. Ta-ta! No, vabbè, ma che belli! No, vabbè! No, raga! Meravigliosi! Dammi la scatola! Grazie, cara! Ricordate il lavoro sporco sempre... Vabbè, ovviamente inizio sempre dalla parte di sopra, ma penso un po' a tutti. Wow! Raga! Raga, è meraviglioso! Raga, caramello! Che spettacolo! Wow! 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 E all'interno suppongo che ci siano i pezzi, Antone, buono? Micidiale! Si sente il caramello salato, però? Non è più di caramello salato. No! Caramello! Però non è quel caramello stucchibile. Raga! L'apocalisse! Ecco, me ne mangio a Sati Child. Cioè, guarda! Questo per il momento 10. Raga! Top! Vado a lavarmi le mani e noi ci vediamo tra un'oretta, un'oretta e me. e mezza con gli altri due. Eccoci qua con la cena con la famiglia Neslohe, Maxi Bond Limited Edition. Vediamo tra questi limited edition se è più buono. Caramello oppure dark berry. Waffle, waffle, come volete voi. E poi quest'altro qui che è il grande. Berry alla fine se bacca. Quindi frutti di bosco, alla fine frutti misti, tutti i frutti di bosco. Va bene. Comunque questo qua è il cereal mix. Un po' cookies and cream. Vediamo. Lo scopriremo solo assaggiando questo è il grande e questo è il piccolo. Iniziamo da dark berry. E' meraviglioso. Ve lo faccio vedere. E' meraviglioso. Assiggiamo. Dovete provarlo. Allora sento proprio frutti di bosco. E' buonissimo. E poi c'è esizioni limitate. Ma io dopo, un appello a Nestlé. Cioè, io dopo ho provato caramello, black berry. Ma io poi, con quale coraggio, vado ad acquistare il maxibon originale normale? Cioè, buoni da cilio praticamente. Cioè, come minimo questi dovete togliere proprio queste edizioni limitate. Perché queste devete proprio entrare nella gamma permanente. Tutta la vita. E poi le va. Ma comunque è anche un po' glassato, tra l'altro. No, meraviglia. Ah, non posso ne fare una classifica e non dare un voto. Cioè, dark berry, caramello, stesso livello, cioè, assolutamente. Ok. E tu sei un si buono, si rende maxibon cereal mix. Vediamo. Che dobbiamo fare? Allora, buonissimo. Questo l'ho trovato dall'edore. Allora. Sono sincera. Avrei preferito dark berry in questo formato e il piccolino questo. Anche perché è un gusto non nuovo, molto simile al gusto precedente, cioè nel senso quello classico, ecco. Lo sento? Il cioccolato bianco, ma alla fine il sapore, diciamo, è quello originale, quello classico. Invece gli altri, raga. Scusate un attimo dopo aver assaggiato quelle due bontà, normale pure. La sorella che entra in questo appartamento e che non viene da me a chiedere, la mostro, non me la sorella. Eccola. Sì, stiamo facendo un tipo come la scritta. Perché? Che ho detto se mia sorella viene qua e non apre. No, 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 no. Dark berry. Buono. Mamma mia. La conosco abbastanza bene. Comunque io sono sempre stata un amante del MaxiBall. Sempre. 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 Il che diceva quando mi ha dato un angelo. La sua madre è un angelo. Ecco, la mia madre è un angelo. 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 Allora, non ho fatto la miaitenza. Che dire Nisle? Ti sei superato? Nisle! Quando vuoi non su altre edizioni limitate hai bisogno di qualcuno come Italia ci sono i contatti giù Niente raga cioè devo anche fare una classifica di questi tre penso che si sia capito no? E niente ci vediamo a breve con la colazione Eccoci qua con l'ultimo passo di questa challenge ed ovviamente San Montana gelati all'italiano gruvi all'italiana gruvi pistacchio sincero all'interno ce ne sono quattro che non potevo non prenderlo questi stati l'ho visto in tutte le instagram stories possibili e immaginabili ovunque l'ho visto e quindi devo concludere questa meravigliosa challenge di novità così adesso si sente le odore wow ce ne è bellissimo assaggiamo assaggiamo ciò c'è esternamente non è croccante è morbidissimo all'interno c'è proprio una scialda un pezzo di pistacchio buonissimo un petto mi aspettavo esternamente una copertura croccante invece no, è morbida buonissimo questa è l'unica pecca è poco buonissimo è serenamente comunque la copertura non è croccante però buonissimo allora ovviamente la classifica che vi farò sarà basata principalmente sui miei gusti personali allora primo posto dark berry della maxibon secondo posto paradiso della magnum quarto posto caramel della maxibon venezuela quinto posto sono abbastanza indecisa però ci posiziono montana sesto posto inferno della magnum settimo settimo raffaello ottavo e nono anche perché alla fine sono ghiaccioli estate decimo posto rosceo undicesimo ufo undicesimo posto come si chiama maxibon cereal mix e quindi raga io spero che anche questa 24 ore vi sia piaciuta e niente noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao